Ciao a tutti dalla Mente tra le Pagine, benvenuti in questo mio nuovo video in cui vi ho portato un personaggio estremamente interessante da analizzare da un punto di vista psicologico. Un personaggio per certi versi molto complesso ma che dobbiamo assolutamente analizzare per mettere in luce tutte quelle sue sfumature psicologiche, tutte quelle sue sfumature che ci aiutano in qualche modo ad avere del personaggio una comprensione psicologica migliore. Tuttavia prima di partire con l'analisi di questo personaggio, ovvero Cell, è bene fare le nostre solite due premesse. Per prima cosa è bene dire che le mie analisi sono solo ed unicamente a scopo di intrattenimento e a scopo didattico e si rivolgono personaggi immaginari. Nulla hanno che fare, nulla hanno che vedere con analisi psicologiche barra psicoterapeutica che si rivolgono persone reali. Seconda cosa è bene dire che se non avete mai visto gli episodi di Dragon Ball in cui compare questo personaggio carismatico, ovvero Cell, vi invito a vedere tali episodi prima di proseguire con la visione del video. Detto questo, possiamo iniziare con la nostra analisi. Come sempre diciamo nei nostri video, se vogliamo veramente capire un personaggio bisogna partire dalle sue origini. Nel caso del Cell, le sue origini sono origini in laboratorio, origini artificiali, in quanto Cell è un biondroide. Origini artificiali poiché è stato anche costruito dal dottor Gero, uno scienziato molto vendicativo, uno scienziato molto cattivo, che ha progettato la sua creatura con l'intento di eliminare il Saiyan Goku, con l'intento anche in qualche modo di diventare potentissima, di far diventare questa creatura potentissima. E' subito bene dire anche a livello psicologico come si denota l'egoismo umano. In questo momento l'egoismo del dottor Gero, ovvero l'egoismo per la sua creazione, in quanto ha creato qualcosa di estremamente mostruoso, qualcosa di estremamente malvagio, in cui ha messo tutta la sua cattiveria. Ciò ci fa denotare come la cattiveria umana può essere veramente senza limiti, come una cattiveria umana può essere qualcosa di molto deleterio, in quanto il mostro che ha creato è un mostro che attacca tutta l'umanità ed è anche un mostro che comunque è mosso sempre dalla rabbia ed è mosso sempre dal desiderio del potere. Detto questo, è bene fare anche altre considerazioni. Possiamo subito dire che Cell potrebbe avere il complesso di Frankenstein, cioè mi spiego meglio cos'è che intendo. Possiamo fare dei paragoni fra questo personaggio, ovvero Cell e il mostro di Frankenstein. Entrambi sono stati costruiti con pezzi messi assieme tra loro. Frankenstein con delle parti di corpo, mentre Cell con delle parti di cellule. Tuttavia è molto interessante poter ipotizzare di come questi personaggi, come questi tra virgolette mostri, abbiano potuto subire tutta l'alienazione sociale, abbiano potuto sviluppare un forte senso di solitudine, un forte senso di diversità e soprattutto un forte senso di emarginazione. Forte senso di solitudine ed emarginazione che in qualche modo gli ha resi barra li può rendere molto più violenti nel confronto degli altri, molto più insicuri con se stessi e soprattutto anche molto più tristi riguardo la propria vita, riguardo il loro senso della propria vita. Quindi da un livello empatico possiamo subito analizzare Cell come un personaggio, tra virgolette, che è un personaggio allenato socialmente, un personaggio che suscita negli altri paura, ma anche perché no, molte persone possono suscitare anche disgusto, può anche suscitare rabbia, ma può anche suscitare rancori, può anche suscitare comunque violenza, può anche suscitare emozioni negative. Ciò segnerà in qualche modo Cell, in qualche modo, poiché ricordiamolo che questo personaggio arriva, nonostante sia un biondroide, molto interessante questo, arriva ad avere una propria autoconsapevolezza. Tanto che quando parlerà con Trunks del futuro, parlerà lui in maniera arrogante, ma si percepisce anche una certa disperazione nel senso, lui gli dice, sono stato costruito per distruggere Goku, ma non è più il mio scopo questo. Questo è infatti Cell delinea che vuol diventare il guerriero più forte dell'universo e continuare a distruggere. Tuttavia, questa sua spiegazione di Cell ci fa anche capire che in qualche modo stia cercando uno scopo nella sua vita. Cell è stato programmato per distruggere, ma questa sua autoconsapevolezza lo porta, seppur distruttivo, a cercare un ulteriore scopo. E' molto interessante questo passaggio perché ci fa capire anche che Cell è un essere molto intelligente e che può usare determinate qualità per migliorarsi, se solo le utilizzasse per il bene. Altra cosa da notare in Cell è sicuramente il suo sadismo. Cell è forse uno dei personaggi più sadici che compaiono in Dragon Ball. Beh, sottolineiamo subito una cosa. Quando parliamo di sadismo c'è da dire una cosa. Cell è un personaggio sadico perché? Perché in qualche modo fa del male agli altri perché ha paura di riceverlo. Questo potrebbe essere un meccanismo di difesa, ovvero il sadico che fa male alle altre persone, che prova piacere nel far male alle altre persone perché ha paura che le altre persone provino piacere nel far male a lui. Altra cosa da dire è la sua arroganza, ovvero l'arroganza di Cell, spesso smisurata. Arroganza che nasconde un profondo conflitto di inferiorità in cui Cell si vede inferiore e in cui Cell ha paura di non riuscire a corrispondere alle sue aspettative dell'essere perfetto. Infatti Cell possiamo dire che è un personaggio anche che cerca sempre l'approvazione da parte degli altri, in particolar modo riguardo le sue qualità, approvazione che cerca da parte degli altri e che utilizza anche per avere una maggior sicurezza nei confronti delle sue qualità, delle sue caratteristiche. Quindi insicurezza che nasconde sicuramente dietro l'arroganza, sadismo come abbiamo detto, complesso di superiorità che nasconde l'inferiorità poiché il complesso di superiorità è un modo per nascondere la propria inferiorità. Dopo possiamo dire che cosa? Possiamo dire che questo personaggio, come è capitato ad altri personaggi della serie, avrebbe potuto redimersi in qualche modo e passare dal lato oscuro al lato chiaro. Questo grazie alla sua autoconsapevolezza. Autoconsapevolezza che il personaggio ha maturato. Ma come il personaggio avrebbe potuto fare questo passaggio al lato del bene, diciamo? Il personaggio avrebbe potuto fare questo passaggio al lato del bene, ad esempio, sviluppando maggiori rapporti empatici con gli altri. Sviluppando maggiori rapporti empatici con gli altri avrebbe in qualche modo potuto sviluppare più sicurezza in se stesso e più sicurezza nell'appoggio degli altri. Tentando poi di avere un nuovo scopo nella propria vita, cercando un nuovo scopo positivo e costruttivo nella propria vita, Selle avrebbe potuto far sì che la sua vita si trasformasse da inferno a qualcosa di positivo, ad uno scopo positivo che avrebbe potuto portare il personaggio a una maggior crescita ed evoluzione personale. Altra cosa è l'empatia, lo stare a contatto con le persone umane, come abbiamo detto, ma è bene sottolineare, avrebbe facilitato il poter mostrare a Selle le proprie emozioni agli altri e, perché no, anche le proprie vulnerabilità. Cambiamento decisivo nel nostro Selle si verifica quando? Si verifica quando viene sconfitto dal nostro Gohan, perché nella sconfitta con Gohan Selle viene messo di fronte a tutte le sue debolezze. Selle non può più negare le sue debolezze, ma ci si trova a confrontarcisi con loro. Quindi, questo passaggio, questa sconfitta di Gohan può essere per Selle un motivo di maturazione personale, può essere per Selle un motivo per capire i propri limiti e soprattutto può anche essere un motivo per vedere dove sono le proprie debolezze e i propri lati da migliorare. Quindi, per riassumere, Selle è un individuo che soffre l'isolamento, possiamo dire, che soffre l'isolamento sociale, l'alienazione sociale, complesso di Frankenstein, possiamo sottolineare, ovvero quello del mostro nato in laboratorio, quello del mostro nato per la cattiveria del suo creatore, che in qualche modo cerca comunque di vendicarsi sulla società perché ha paura che gli venga fatto del male. Seconda cosa, possiamo sottolineare il sadismo, come abbiamo fatto, ovvero il piacere di fare del male agli altri da parte di sé per paura di ricevere del male da parte degli altri. Poi possiamo sottolineare il suo complesso di superiorità, complesso di superiorità che nasconde un'estrema insicurezza in Selle e il suo bisogno continuo di approvazione dagli altri, bisogno di continuo di approvazione dagli altri che delinea una scarsa sicurezza nelle capacità del personaggio stesso, personaggio che per l'appunto cerca di continuo l'approvazione. Bene, siamo giunti alla fine di questa analisi su questo personaggio straordinario, ovvero sul personaggio di Selle. Vi ringrazio per essere stati con me durante tutto il video. Vi invito a iscrivervi al canale, a condividere il video e anche a lasciare un commento costruttivo sotto al video, come fate sempre, soprattutto ultimamente, che state facendo dei commenti veramente ottimi e costruttivi, soprattutto anche per altre persone che li leggono e che cercano ispirazione o che cercano confronto. Grazie per i vostri commenti costruttivi. Noi ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto dalla Mente tra le Pagine. Ciao e alla prossima!